Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Un video brevissimo, faccio questo video per rispondere a alcune domande Mi stanno contattando veramente in tanti per dirmi Quando faccio una live, quando faccio una live, quando faccio una live Per via, per motivi lavorativi, ultimamente mi è molto difficile fare video Però diciamo che stesso da oggi, venerdì, dovrei essere già più libero Perché mi sto spostando, sto cambiando casa Quindi è un momento, non dico problematico perché non è assolutamente un problema questo Però dico che è un attimo un momento in cui devo pensare a me stesso e non a Youtube Stesso motivo per le live, non posso fare le live perché prima, diciamo dove sto attualmente Spesso ci sono disturbato, non ho meno privacy di dove mi sto per andare a spostare Dove avrò tantissima privacy quindi finalmente potrò dedicarmi di più a Youtube Fare qualche video, dare qualche mio pensiero, essere più presente nella comunità Youtube Ecco, niente, per il resto tutto il bene, ora mi trovo al lavoro, sto per iniziare E mi dispiace che tanti mi scrivano e dicono quando faccio una live, quando faccio una live E diciamo, vi darò una risposta sincera, la live la farò al più presto, diciamo Penso già la prossima settimana ci sarà una possibilità di live Se volete datemi un argomento di cosa vogliamo parlare Perché se c'è tanta richiesta di fare una live Almeno datemi un argomento così mi organizzo e incomincio a pensarci Va bene? Niente, per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video Statemi bene A proposito, oggi inizia l'Expo So che inizia l'Expo a Milano oggi Cosa di cui non me ne frega altamente un cazzo E' una contraddizione, già il fatto che il tema è il mangiare sano E i due grandi sponsor siano McDonald's e Coca Cola Va bene Per ora è tutto ragazzi e ora ci vediamo ad un prossimo video Mentre tra poco io vado a lavorare Va bene? Ciao